Sarà inaugurata venerdì 11 novembre alle 17.30 presso il Museo Civico Palazzo Ricchieri e Pordenone la mostra Musica e Danza dalle Collezioni Civiche, nella quale sono esposte alcune delle numerose opere di pregio conservate presso il cavo dei musei cittadini. Il tema scelto propone dipinti, disegni e sculture che hanno come soggetto musicisti, cantori o strumenti musicali assieme a danzatrici sinuose, dai corpi slanciati in movenze significative o in una torsione esasperata. La mostra avrà ingresso gratuito e sarà visitabile fino al 22 gennaio 2023, da giovedì a domenica dalle 15 alle 19 presso il Museo Civico Palazzo Ricchieri. Al Museo Civico d'Arte un'altra grande mostra che espone i tesori che sono custoditi nei nostri magazzini e che altrimenti non potrebbero essere visti. Noi li stiamo proponendo attraverso una serie di mostre che abbiamo appunto chiamato i Tesori di Pordenone. In questo caso il filo conduttore, la musica, danza, ci sono opere importanti, di autori importanti come Cagli, Vettori, Messina e altri ancora. Questo sistema di esporre a rotazione i nostri tesori proseguirà ed è una sorta di restituzione ai cittadini di quello che è di proprietà in qualche modo dei cittadini perché questo fa parte proprio dei musei civici di Pordenone. Importante novità presentata assieme a questa mostra è il biglietto unico per le mostre in città nato da un accordo specifico tra il comune di Pordenone e il PAF. Nasce anche il biglietto unico e cioè la possibilità di visitare non più solo il singolo museo ma il sistema museale pordenonese. Un biglietto unico che dà diritto anche a un piccolo sconto. Lo si può fare online o direttamente alle casse e con questo biglietto unico uno può visitare Palazzo Ricchieri, Galleria Bertoglia dove c'è la grande mostra di Elio Terwitt e il PAF dove c'è la mostra di Eisner. È un sistema per promuovere la città nel suo complesso e per far diventare il museo, l'arte e la cultura veramente come leva di promozione della città. Il PAF è da sempre aperto alle sinergie, alle collaborazioni perché si mette a disposizione del territorio per incastonarsi nella promozione di questo e quindi questa iniziativa del comune di biglietto unico ci permette di consolidare questa prospettiva.